Ambiente, cultura, salute. Questi i temi cardine dei cantieri civici. Una serie di appuntamenti a cominciare da quello in programma lunedì alle 21 sulla pagina facebook di Varese 2.0, movimento che stamani ha presentato la propria roadmap elettorale in vista del voto amministrativo nella città capoluogo. In campo, oltre al fondatore e attuale vicesindaco Daniele Zanzi, il presidente Angelo del Corso, la consigliera comunale Elena Baratelli e Alessandro Goitan, già noto sul territorio quale portavoce del comitato Difendiamo Vieselene. Si apre così ufficialmente la campagna dell'anima più critica in seno alla maggioranza che regge Palazzo Estense. In questi anni di governo, spiega Zanzi, abbiamo ricevuto più cazzotti dagli alleati che dalle minoranze, ma siamo rimasti al nostro posto tenendo fede al programma e facendo da pungolo l'amministrazione Galimberti non ci fossimo stati noi, chiosa, la musica ingiunta sarebbe stata ben diversa. Smaltita quella che Zanzi chiama l'ingenuità della prima ora, Varese 2.0 è dunque pronto a ricavarsi un proprio spazio autonomo, offrendo una valida alternativa a quel 10% di elettori che non si riconosce nel centro-sinistra, né nel centro-destra, né in quella che viene definita la platea di finti civici che popolano l'orizzonte locale. Perciò, come lui stesso conferma, è assai probabile che tra i tanti candidati alla poltrona più alta del comune vedremo proprio Daniele Zanzi. Tornando al programma del cantiere aperto, Goitan sfodera un ambizioso schema che farà da traccia agli incontri in partenza lunedì e che è ricavato dalla mappa della metropolitana di Londra. A ogni colore corrisponde una delle sopra elencate priorità, a ogni fermata un risvolto tematico, a ogni snodo un intreccio tra percorsi. E sul tavolo ci sono già alcune proposte. La nomina di un garante del decoro urbano che faccia della lotta al degrado una mission quotidiana e istituzionale. Il rilancio del lago di Varese non tanto per la balneabilità quanto per la tutela dell'oasi naturalistica, ma anche un bilancio annuale dell'ambiente che consenta di monitorare costantemente il tessuto e lo sviluppo varesino sul fronte della sostenibilità. E nature urbane? Così com'è, sentenza il movimento. È un'iniziativa già morta. Come dire, se è vero che il voto slitterà all'autunno, i prossimi sei mesi saranno più duri in maggioranza che altrove. Ma se qualcuno ritiene che il vice sindaco possa gettare la spugna o fare un passo indietro, si sbaglia. Io non mollo, dice. Se non mi vogliono più, mi caccino pure via.